Buongiorno Ratzinger, o come ti chiama la mafia, Benedetto, o come ha sentenziato la magistratura, assassino. Mentre ieri concludevo la giornata in preda all'ira dei Malanca, oggi lunedì 14 dicembre 2015, risveglio con violenta aggressione da parte delle anime nere e fase a super sigarro, ossia shock e panico, in quanto si vocifera che sul pianeta Terra Silvia Berluscona sia scoppiata a piangere davanti ai giudici. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi! Grazie!